Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePad17 e siamo tornati su Mario Kart 8 per Wii U Ok ragazzi, ho deciso di riproporvi immediatamente un altro episodio di questo titolo Vi spiego subito il motivo per questioni tempistiche Purtroppo non riesco a registrare nient'altro Dato che purtroppo ogni singolo episodio delle altre serie mi porta via più tempo in post produzione e quando devo caricarlo sul canale Quindi per non lasciarvi senza video giornaliero ho deciso comunque di registrarvi questo Che comunque mi sembra un titolo interessante o almeno dal mio punto di vista Spero vi piaccia e direi di non perdere altro tempo adesso Iniziamo subito un altro Gran Premio Allora scegliamo un giocatore naturalmente Facciamo Gran Premio L'altra volta avevamo messo 150cc Era stata Una sfida diciamo Abbastanza interessante contro il computer Quindi direi di riprendere la stessa difficoltà Vediamo come personaggi L'altra volta ho preso Mario Stavolta voglio provare Vediamo Voglio provare Todd ragazzi Così Sono curioso di provare Todd Cos'è questo? Vediamo Uh guardate che macchina ragazzi Guardate che macchina No però io vorrei stare diciamo un po' più sul classico Queste qui come vi dicevo l'altra volta sono tutte macchine che ho sbloccato scaricando l'espansione Mercedes Che potete trovare gratuitamente da scaricare sul Nintendo store Io proverai quasi quasi La moto Dai proviamo la motocicletta da strada Vediamo le gomme No qui sono tornato indietro ok Le gomme metterei Metterei queste qua grosse E il deltaplano o il paracadute insomma Metterei quello di Todd Classico Ok l'altra volta avevamo fatto il trofeo fiore Proviamo il trofeo banana ragazzi Non ho mai Fatto questi circuiti Non ho mai provato questi circuiti Quindi non so Come sono E Se sono difficili oppure no Li sto provando per la prima volta qui insieme a voi Ok eccoci qua Desertico deserto Mazza che fantasia ragazzi Comunque Questo qui È il circuito Ragazzi guardate Spettacolare Ambientato nell'antico Egitto Perfetto iniziamo subito Prima corsa Dai iniziamo con una buona partenza Due Uno Ok partiti Perfetto dai siamo partiti subito bene Spero di ricordarmi i tasti ragazzi Ho giocato Praticamente due giorni fa Ok sì sì me li ricordo Dai che siamo subito terzi Iniziamo benissimo Non abbiamo preso però il power up Dai che il nostro avversario si è scontrato contro la Quella fare lì che non so come neanche come si chiama ragazzi Ah ci hanno presi da dietro Eh sì vabbè due volte di fila Mamma mia Siamo caduti in sesta posizione Adesso dobbiamo vendicarci Devemo andare un po' più veloci però eh Uh il boomerang Vediamo se riesco a prendere qualcuno Ah dai che No non ho preso nessuno però siamo riusciti comunque a recuperare delle posizioni Siamo in quarta posizione Dai 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 io magari taglio di qua Hop Attenzione i buchi qua Fungo Dai che così usciamo più veloci Attenzione abbiamo sfiorato un buscio rosso Waluigi Waluigi ci colpisce due volte Siamo tornati in quarta posizione Mazza se viaggiano davanti ragazzi Viaggiano a tutta velocità Allora siamo nel secondo giro Terza posizione Vediamo che power up ci danno Uh la bomba Wow guardate che roba Ne abbiamo presi due o tre Perfetto loro si scontrano Dai no no siamo lunghi Siamo lunghi Passo qua in mezzo Quarti No no l'inchiostro no L'inchiostro no Zia Pina ragazzi non vedo più niente Non vedo più niente Ah peccato anche un guscio rosso ci è arrivato da dietro Ok siamo quarti Io taglio leggermente in mezzo Perfetto Siamo comunque riusciti a uscire veloci Dai che lì si disturbano tra di loro Terzi secondi Dai dai dammi un power up buono Dammi un power up buono Banana Buttala lì in mezzo Vediamo se prendiamo qualcuno Mamma mia siamo secondi Dai ragazzi Attenzione alla banana Quinti mamma mia Siamo tutti appiccicati Quindi basta un niente per perdere posizioni Oppure guadagnarne Dai 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 Un power up buono Il guscio Ciao Waluigi Sono secondi Primi Mamma mia ragazzi Siamo primi Facciamo veloci Queste S Peccato perché il tizio là è passato a tutta velocità Non so il suo nome Non ho visto neanche chi è Banana Passiamo esterni qua Così riusciamo a uscire più veloci Attenzione Guscio rosso Ok l'abbiamo evitato ragazzi Prendiamoci un power up qua Ok Dai che ci da una mano Guscio Io lancio Perché tanto non ci serve Siamo terzi Siamo terzi Dobbiamo far bene questa curva qua Dai che siamo usciti veloci Dai che siamo usciti veloci No non ce la faccio per pochissimo Comunque un'ottima prima gara Ragazzi siamo terzi Perfetto Dietro a Coppa e Larry Scusate se magari non mi ricordo sempre i loro nomi Sono un appassionato di questi giochi Dei giochi della Nintendo Però Non Proprio In modo maniacale Quindi magari ogni tanto mi sfugge il nome di qualsi Di Scusate Qualche personaggio Ok Questo qua si chiama Pianura Ciambella 3 Perfetto Naturalmente partiamo in terza posizione Dai un'altra buona partenza come prima Perfetto Loro sono partiti più veloci Comunque noi non abbiamo fatto una brutta partenza Siamo già in seconda posizione Ah siamo lunghi Guscio rosso L'ha evitato Di solito lo prendo al 100% Non ho capito perché è riuscito a evitarlo Comunque Niente Quarti Quinti Ah sterziamo Uh i funghetti I funghetti ragazzi Uno Perfetto Due Perfetto Tre Qui davanti Deve essere successo un incidente Ok Curve Secche Siamo leggermente lunghi Dobbiamo farle un po' meglio Caspita siamo finiti indietro ragazzi Siamo sesti Dietro Ah lunghissimi lunghissimi Mamma mia Pure il guscio No 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 Bruttissima gara Bruttissima gara Dobbiamo subito recuperare Dai che con i power up giusti Possiamo recuperare Velocemente Magari si guidiamo anche bene Senza Danneggiarci da soli Perfetto Stretta Ok Se facciamo bene le curve Guscio rosso No Peccato Il guscio verde mi ha fermato il nostro Ok Siamo quinti Sterziamo qua Sterziamo qua Ok Un piccolo nos E siamo sempre lì Ragazzi i quattro là davanti Sono tutti vicini Quindi Da quel punto di vista lì Non dovremmo Terzi Banana 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 Ok Dai che siamo davanti a tutti ragazzi Siamo davanti a tutti Se facciamo una buona gara Possiamo portare a casa Una fantastica vittoria Ah peccato L'inchiostro Zeppino non so dove vado Guscio Peccato che era verde Siamo secondi Terzi Ok Piccolo nos Siamo già nell'ultimo giro Ragazzi Perfetto Il nostro amico lì Coppa ha fermato Larry se non sbaglio Rettilineo finale Dai 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 Secondi Perfetto Un'ottima gara Siamo migliorati nel piazzamento finale Ok Siamo secondi in campionato Con dietro Yoshi E davanti solo Coppa Che ha vinto due gare di fila Perfetto Il nostro obiettivo comunque è il podio Ok Eccoci qua Questa qui è la terza gara Pista reale Perfetto Partiamo in seconda posizione Dai ragazzi Facciamo una buona gara Dai siamo a posto Perfetto Una buona partenza Non ottima Perfetto Ci siamo subito ripresi La seconda posizione Curve veloci Più che altro No siamo di nuovo lunghi Comunque tiro un guscio rosso Dai che lo prendo Dai che lo prendo Preso Preso Abbiamo preso Coppa Che ha perso un sacco di posizioni Mamma mia Evitiamo una banana per niente Caspita Il retilineo Sono più veloci loro Però Siamo a quinti Siamo a quinti Funghetti Funghetti No banana no Caspita Avevo appena utilizzato i funghi Oh Qui usiamo il deltaplano Finalmente Ok Siamo sesti Quinti Perfetto Vediamo che power up ci danno Eh vabbè che caspita Un altro fungo Un'altra banana volevo dire Ok utilizziamolo subito Il fungo Perfetto Siamo tornati in quarta posizione I tre davanti Sono tutti lì Yoshi sta viaggiando da matti Ragazzi Sta viaggiando da matti Mamma mia Ci hanno rimpiccioliti Siamo diventati piccolissimi Gushi Uno Due Vediamo se lo prendo E Ah ho perso l'ultimo Probabilmente han tentato di colpirci con qualcosa Beh meno male Dai che siamo in terza posizione Quarti Yoshi non lo vedo già più ragazzi Ah Waluigi ci spinge fuori Attenzione Wario è lì Deltaplano Caspita Siamo indietrissimo ragazzi In settima posizione Ok dai che abbiamo fatto questa curva Benissimo Fungo No banana di nuovo No caspita E' la terza che prendo Mamma mia Abbiamo un sacco da recuperare Siamo finiti in ottava posizione Rendetevi conto Oh guardate Baby Luigi Come se la viaggia Mamma mia ragazzi Che gara No niente power up Ah Waluigi ha preso il Il fungo d'oro Si vabbè anche noi Facciamo le curve Malissimo Mamma mia Che garaccia ragazzi Che garaccia Dai che ci sono rimpiccioliti tutti Perfetto Siamo tornati subito A essere giganti Sesti Quinti Questa volta la banana L'abbiamo evitata Quinti Non so se ce la facciamo Per il podio ragazzi E non so Mi sa che E' veramente dura Dobbiamo accontentarci Questa volta Non so neanche dove siamo Nel circuito Dai Quinti Quarti Terzi Guscio No ho mancato tutti No ho preso Si ho preso qualcuno Però è dietro Perfetto Mamma mia Ci è andata bene Comunque riusci No non ci credo Ci ha fregato Wario Alla fine Potevamo arrivare Quarti Non ci credo Cioè guardate Rendetevi conto Siamo In quarta posizione Ci ha ripassato Larry Solo perché Wario Ci ha sbattuti indietro Nell'ultima gara Se arrivavamo quarti Probabilmente avevamo Gli stessi punti di Larry Va bene Dobbiamo giocarcela Nell'ultima Devo riuscire Ragazzi a Magari non vincerla Però almeno arrivare secondo Perché abbiamo un sacco di punti Da recuperare Ok Perfetto L'ultima è la giungla Di Kay Di Donkey Kong Perfetto Allora Quindi probabilmente Lui sarà avvantaggiato qua Però non vorrei dire Magari una cavolata Dai dai Una buona partenza Ok Non è Buonissima Però va bene Dai siamo terzi Dobbiamo arrivare Davanti a Larry Che è lì Dobbiamo arrivare Davanti a Larry Le lancio un guscio Vediamo se serve L'ho preso Sì Probabilmente l'ha preso Anche qualcun altro Evitiamo sti affari Mamma mia Per un pelo Per un pelino Secondi Ma è sempre Yoshi Che se la viaggia così Davanti Cos'è questo? Sì vabbè Anche se i rospi Evitano di rompermi le scatele Ragazzi non lo vedo già più Stella 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 Evitiamo la stella Guardate come è sviluppato Il percorso ragazzi Una figata assurda No 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 Mamma mia Dietro erano tutti appiccicati Ok prendiamo il power up Speriamo ci serva Stella Evitiamo la stella Preso qualcuno No caspita Sono troppo distanti No Siamo finiti fuori dal percorso Abbiamo evitato comunque Almeno il 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 Guscio rosso Mamma mia ragazzi Vai fuori Vai fuori Io passo di qua stavolta Stella Cosa ci serve? Ah ok abbiamo Probabilmente più velocità O i Possiamo Magari Sì vabbè Anche se evitiamo magari di buttarci fuori dal circuito Già è difficile di suo Se poi ci mettiamo anche del nostro No Siamo indietrissimo Wario c'era sempre con noi C'era sempre con noi E anche nell'altro Nell'altro episodio Ci aveva presi di mira Fungo Che non riusciamo a sfruttare appieno Fungo 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 Ah l'ho già finito Peccato Mamma mia Siamo noni ragazzi Siamo noni Siamo indietrissimo Ah no 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 Sto guidando malissimo Sto guidando malissimo Niente È difficilissimo ragazzi È difficilissimo Fungo 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 Dai che dobbiamo recuperare un sacco Evito la scorciatoia Perché rischio di andare fuori Mamma mia Siamo indietrissimo ragazzi Pensare che avevamo puntato al podio Ottavi Dobbiamo fare un ultimo giro Da dio Fungo Fungo No non ci credo Ci ha preso Zia Pina ragazzi Ci ha preso un guscio Proprio quando stavamo per Per saltare Non ci credo Non è che siamo molto fortunati Comunque Da quel punto di vista lì Eh non so Non so ragazzi Guardate la Piccola principessa Peach Che roba E viene Come ci viene a rompere le scatole Mamma mia Siamo indietrissimo Niente Mi sa che Anche questa volta Dobbiamo accontentarci Sì vabbè Caspita però Non è possibile C'erano tutti con noi Sti gusci verdi Eh però Eh buonanotte Scorciatoio troppo largo Niente Mamma mia Siamo finiti Sì vabbè Pure il missile E poi Cosa volete Prendermi Cioè siamo penultimi Rendetevi conto Siamo arrivati penultimi Mi hanno preso con tutto Gusci verdi Gusci rossi Missili Stelle Tutto 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 Niente Abbiamo concluso di nuovo Al quarto posto Il campionato Non riesco a sbloccare niente Al riguardo Peccato Mi hanno preso con tutto Nell'ultima gara ragazzi È pazzesco Con tutto Con tutto Quello che avevano Vabbè Comunque abbiamo portato a termine Anche il gran premio Banana Qui ci fanno vedere Gli highlight Che direi Di saltare Ok Sì beh Peccato Grazie Ma ci hanno portato via Un sacco di punti Waluigi e Wario Se non era per loro Magari riuscivamo Non dico magari Arrivare terzi Però comunque Starli un po' più appiccicati Yoshi e Coppa Terminano al primo posto Con 49 punti E Larry terzo Con 43 Noi più staccati Con 32 Quindi addirittura 11 punti di distacco Ragazzi Direi di terminare L'episodio qua Spero che il video Vi sia piaciuto Mi raccomando Commentate Condividete Mettete un like Al video Se vi siete divertiti Iscrivetevi al canale In descrizione potete trovare La mia pagina di facebook E ci vediamo Nel prossimo episodio Sempre qui Su Mario Kart 8 Alla prossima Alla prossima